Benvenuto a Mirabilandia, sul circuito che ospita High Speed, il primo roller coaster a lancio magnetico costruito in Europa. Toccherai 120 km orari e cadrai in picchiata da un'altezza pari a 55 metri, con 4,9 G di accelerazione di gravità, più di un caccia al decollo. Tutti questi incredibili fattori rendono High Speed il roller coaster numero uno di Europa. Ora, preparati all'accelerazione della partenza, che è da 0 a 100, in 2 secondi e 2. RASTERNATO 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 Questo è il gusto per il pulsante e allo schienare. Nooo, nooo Nooooo noooo noooo Un video perfetto! Quanto video mancassimo! Mi paremmo bu Bronze da qua! Ma piangi volte... Dai!